La depressione innanzitutto non è un'emozione. Ci sono varie emozioni collegate all'aspetto depressivo, come per esempio una grande tristezza, malinconia, noia, sentimenti di vuoto, magari anche di angoscia, di rabbia o di intensa frustrazione. Queste emozioni però sono emozioni, come tutte le emozioni, fluttuanti, hanno un inizio, un adorato alla fine. La depressione è qualcosa di più stabile, di più completo che occupa tutta la quotidianità della persona e dura per un tempo più prolongato di tempo. Infatti quello che si vede nella persona depressa è che in qualche modo smette, interrompe molte delle sue attività, rinuncia a fare progetti, rinuncia a essere creativo, rinuncia a creare, in qualche modo o interrompe buona parte o riduce al minimo quelle che sono le sue normali attività, magari mantenendo solo piccoli aspetti, come magari continuare a mantenere il lavoro o alcuni rapporti significativi, molto ridotti. Ma l'aspetto fondamentale è che lei ha dei sintomi che sono visibili su qualsiasi sito internet, mettendo sintomi di depressione. Quello che noi vediamo è che la persona smette, riduce. Abbiamo diversi livelli di processi coinvolti. Uno sono quelli cognitivi. Aaron Beck ha parlato di triade cognitiva della depressione. Ovvero la persona depressa innanzitutto ha una visione negativa di se stesso, un'opinione molto negativa di sé, una visione negativa del mondo, delle persone che lo circondano e una visione negativa del futuro. Quello che possiamo notare è che più questi tre processi sono coinvolti, più la persona in qualche modo è depressa. Quindi persone lievemente depresse, ma hanno unicamente una visione negativa di sé, man mano che anche gli altri aspetti sono coinvolti il livello depressivo si aggrava. Un altro aspetto di tipo cognitivo è quello del rimuginio. La persona depressa rimugina sempre. Su cosa rimugina? Innanzitutto su perché sono depresso, che cosa mi sta accadendo, dove mi porterà, come faccio a risolvere, oppure su come faccio a risolvere quegli elementi che mi hanno portato o penso che mi abbiano portato al mio problema attuale. Questo rimuginio è un processo molto importante su cui si lavora in terapia perché è quello che molto spesso mantiene tutto l'aspetto depressivo. Un secondo processo coinvolto invece più a livello comportamentale. Come dicevamo prima, la persona smette di fare le cose. Quindi riduce, dorme il più possibile e comincia ad attivare una serie di comportamenti volti a non sentire il suo dolore. Il dormire appunto è un comportamento per cercare di non sentire. Quindi stare tanto a letto, dormire il più possibile è un modo proprio per cercare di annullare il dolore. Altri elementi magari invece hanno a che fare con comportamenti più gravi, quindi cercano magari sensazioni più forti per uscire dalla depressione, per esempio problemi di gioco patologico molto spesso sono collegati a problemi depressivi o abuso di alcol, è anche un altro tentativo per cercare di non sentire. Quindi la persona smette o attiva comportamenti per cercare di sentire meno, ma che in qualche modo poi aggravano la situazione. I processi cardine sono tre. Uno, l'attivazione comportamentale, quindi riprendere quelle attività che la persona aveva interrotto. Il secondo aspetto modale è quello sul rimuginio, quindi ridurre o cercare di togliere il più possibile il rimuginio che è perpetuo all'aspetto depressivo. Il terzo aspetto è quello di lavorare su quei pensieri che hanno a che fare con la visione negativa di sé, del mondo e del futuro, di cui dicevamo prima. Purtroppo sì, l'elemento delle ricadute è molto frequente. Tra l'altro si vede che chi ha avuto un episodio depressivo ha X probabilità di averne un secondo, chi ne ha avuto due ha più probabilità di averne un terzo e chi ne ha avuto tre più probabilità ancora di avere un quarto episodio depressivo. Per questo uno dei lavori che si fa, oltre all'approccio cognitivo comportamentale standard, è quello di lavorare sulle ricadute attraverso la mindfulness. La mindfulness è uno strumento molto efficace da questo punto di vista, tanto che diverse linee guida internazionali indicano il protocollo di mindfulness per le ricadute della depressione nel caso di più episodi. Un ulteriore elemento molto interessante è quello del lavoro con il neurofeedback dinamico. È uno strumento nuovo, ma che può essere un valido aiuto da affiancare alla psicoterapia sulla depressione e anche come lavoro poi sulle ricadute.